Qui di fianco a me c'è il mio assistente in rappresentanza del mio staff e lascerò la parola a lui perché è stato un mese molto difficile, è stato un mese molto difficile, l'avete potuto toccare con mano anche stasera perché la testa purtroppo quando hai un periodo difficile di sconfitte e quant'altro diventa che la testa fa fatica, dopo diventa tutto difficile. In questo mese le persone che lavorano con me, i miei due assistenti, il preparatore, tutto il mio staff si sono dimostrati, come già io sapevo, delle persone strepitose oltre che delle persone professionalmente preparatissime e quindi mi sembrava giusto lasciare la parola ad Ansa in rappresentanza del mio staff. Io sono qua solamente per augurarvi il buon Natale, il buon anno perché ci rivedremo con l'anno nuovo e niente, e lascio la parola ad Ansa e ci vedremo l'anno prossimo. Arrivederci a tutti.